Gli altri con me, ora! Attività, regolo verso di voi. Movimento, scendono di attuare e slide. Porta aeree, ora! Atta aeree! Vieni voi! Vieni voi! Trovata! Contatto perché fuggi! È morto! Versaggio a terra! Movimento su quella colina! Nemico a terra! A terra! A terra! Nemici vicino al tratto! Cecchini, tragnateli! Toro! In alto! Cecchini! Nemici, vicino alla cascata! Elicopteri nemici in avvicinamento! Rispondete! Rispondete base! Rispondete base! e 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 guardate laggiù bohman al fucile di precisione mason usa il china legge speditene al creatore bene bene e 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 da quanto tempo dobbiamo recuperare e e e